Questo è il mattino del 26.07.22, ore 5 e mezza. Questo è quello che rimane nella zona di Via Tiziano. Si convincono ancora di non potare questi alberi qua. Assurdo, in centro lo fanno, in questa zona qui, mai visto fare. In 11 anni che abito da queste parti, mai visto fare. Dopo mezz'ora, una buona mezz'ora, a parte che il traffico è chiuso da due ore. Sono letto meno 10. Ai piedi di quell'albero c'è un tronco umidissimo, grandissimo, che è caduto giù. Ecco che adesso, alla fine, sono intervenuti i vigili. Scomodare questo grande nucleo di due autopompe. Via Tiziano ad Alessandria. Per intervenire un ramo grossissimo, pericolante. Dovuto alle intemperie passate. Oggi è venerdì 5 agosto. 11 anni che abitiamo qua e mai hanno tagliato questi alberi. Mai potati. Mai. Mai visti potati. Adesso si spera che con questo intervento, con questo... Comunque, l'intervento qua, possono comunque far qualcosa, almeno il comune. In centro, li portano, pelli. Ma qua, mai. E si devono pagare altre persone, gli altri enti, per pulire le foglie per terra. Così li fanno uscire le casse dai comuni. Così li fanno uscire le casse dai comuni.